Ciao e benvenuti in questo allenamento brucia calorie cardio a basso impatto senza salti. Io sono Marco Caggiati fitness coach delle donne e ideatore dell'accademia online bella e in forma per sempre. Oggi ci alleneremo insieme per mezz'ora continuativa e bruceremo una marea di calorie e ora prima di iniziare ti consiglio di fare tre cose. Numero uno iscriverti al canale, numero due attivare la campanellina per essere aggiornata prima delle altre di quando pubblico un nuovo video e se ti sarà piaciuto questo allenamento un like fa sempre piacere perché aiuta anche a far crescere il canale. E ora bando alle ciance e diamoci dentro. Ciao e benvenuti in questo video. Ciao e benvenuti in questo video. Ciao. 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 今日。 Ciao. Ciao. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 . 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